Nuovo progetto, nuovo mister, nuovo corso, l'Arezzo Calcio Femminile dopo aver conquistato la Serie B e avervi militato non le manda a dire e punta decisamente in alto. L'ambizione è sicuramente un'ambizione innanzitutto nel voler far bene e migliorare ciò che abbiamo fatto fino ad oggi, che non è facile perché abbiamo fatto direi bene. Abbiamo già una categoria in più in soli tre anni e quindi nei prossimi tre anni dobbiamo sicuramente avvicinarsi il più possibile alla massima categoria. C'è poco da aggiungere alla chiarezza del Presidente anche perché squadra e società sono coese e vanno nella stessa direzione. Sicuramente in alto, sicuramente i tre anni precedenti sono stati un bagaglio importante, abbiamo avuto risultati molto importanti, abbiamo deciso di rinnovare. Il Presidente ha deciso di rinnovare alcune cose, di provare a sistemare quello che può non avere funzionato in questi anni e quindi adesso ripartiamo da qua. Le opportunità sono alla fine tante, tantissime perché sta cambiando tanto il movimento, la Serie B ha subito tanti cambiamenti, perciò l'ambizione è quella di fare bene, di vincere, come sempre noi sportivi vogliamo sempre vincere. A breve verranno annunciati nuovi innesti, mentre sotto il profilo delle strutture la Casa Maranto rimarrà ceciliano e la Serie C dei Cugini non dovrebbe creare impedimenti per l'uso del comunale.